buongiorno a tutti e benvenuti o bentornate sul mio canale allora oggi torno con un nuovo tutorial dedicato a una bravissima creativa e quindi volevo fargli una sorpresa e dedicare questo paio di orecchini a lei che si tratta di questi orecchini sono molto portatili non sono grandi sono piccoli medi diciamo che sono fatti così in questi colori che secondo me piacciono tanto a questa creativa di cosa si tratta si tratta di chi si tratta ecco si tratta di gabriella casano in arte briga bijou e vi spiego anche il perché non so quando pubblicherò questo video perché prima devo spedirli gli orecchini e poi pubblicherò il video per non rovinare la sorpresa quindi non so se ancora sarà attivo il gioco sul gruppo e quindi vediamo se è ancora attivo vi lascerò il link giù nell'info box del gruppo se volete iscrivervi e partecipare a questo giochino lei insieme ad alessandra girasole hanno fatto questo giochino sul gruppo macramé su tash o perline su tash non mi ricordo l'ordine come hanno proposto questo giochino che si chiama bancarella dell'amicizia per festeggiare l'amore infatti sta finendo il 14 febbraio proprio a san valentino e per festeggiare l'amore diciamo l'amore tra nel senso di amicizia ecco quindi in cosa consiste che io magari ho un bijou in casa che voglio scambiare con un'altra creativa che magari non la conosco magari voglio fare nuove amicizie infatti il giochino nasce un po per questo per conoscere altre persone e fare nuove amicizie quindi io metto un bijou che faccio io per esempio questi orecchini con perline li metto lì e dico io propongo questi orecchini e in cambio vorrei ricevere un braccialetto al macramé esempio e quindi poi arrivano delle proposte se ti piacciono accetti se non ti piacciono aspetti altre proposte e poi si fa questo scambio tra le creative che si inviano le creazioni diciamo quando si mettono d'accordo io l'ho trovato veramente stupendo questo giochino è molto bello e infatti ho già fatto uno scambio con linda gioia che mi ha mandato dei orecchini stupendi in su tash infatti volevo dei orecchini in su tash e che adesso non ho qui per mostrarvele però poi ve li mostro e quindi io per scherzo un po apposta ho sfidato gabriella cassano quindi cosa lo sfidata per fare uno scambio lei ovviamente mi ha proposto dei orecchini che sono stupendi non vedo l'ora che arrivino e poi ve li mostro invece lei vuole essere sorpresa nel senso che devo fare devo mandargli una creazione che lei non sa di cosa si tratta quindi ho deciso di fare questo paio di orecchini apposta per lei nei colori che secondo me li piacciono lei è molto per i colori caldi colori tenui quindi tipo come oro bronzo copper marroncino questi colori qui caldi diciamo no e quindi ho deciso di fare questo paio di orecchini apposta per lei e dare anche il nome a questi orecchini il suo nome quindi orecchini gabriella che oggi andremo a fare il secondo insieme e spero di aver fatto cosa gradita spero che li piaceranno non lo so ancora poi ve lo dirò e niente tutto qui poi vi aggiornerò quando arriverà il pacchetto da gabriella vi mostrerò cosa mi ha inviato bene vi presento i materiali e passiamo al tutorial per fare questo orecchino ci servirà un rivoli da 12 mm che io uso questo ab che veramente una meraviglia cioè guardate un po io adoro questi questi rivoli bene quindi rivoli a poi ci serviranno dei cipollotti 3x4 che userò questa bellissima colorazione molto brillante belli belli ci serviranno poi le drop duo che uso questa co per qualcosa del rame non lo so la colorazione perché non c'è più la bustina poi ci serviranno delle 80 ma ci serviranno pochissime solo per l'incastonatura che sono scusate che sono le miyuki duracot galvanized gold poi ci serviranno delle 11 0 sempre miyuki che sono sempre duracot galvanized gold ok poi ci servirà ovviamente un perno e un anellino che io ho messo questi perni che mi sembra richiami un po la forma dell'orecchino ecco vedete un po tipo a triangolo un po uno scudo se vogliamo dire poi ago io uso un ago pony numero 10 e questa volta userò un filo di nylon in modo da non far vedere il filo ecco perché il miyuki come sapete è bianco e quindi un po si vede niente questo è tutto il sistema tutto e iniziamo con il tutorial eccomi qui io mi sono portata avanti quindi inseriamo sul filo una rocaille 8 0 e un cipollotto alternati per sei volte poi chiudiamo a cerchio e facciamo un paio di nodini dopodiché ci portiamo ad uscire da una rocaille prendiamo 5 rocaille 11 metti a fuoco ecco e ci inseriamo nella rocaille 8 0 subito dopo facciamo una incastonatura neti deco formando questi piccoli archetti sopra ogni cipollotto continuate così fino alla fine del giro eccoci qui arrivati a questo punto ci portiamo ad uscire dalla perlina di punta di questo archetto adesso prendiamo di nuovo 5 rocaille 11 e ci inseriamo nella perlina di punta dell'archetto successivo quindi questa centrale e tiriamo il filo ecco adesso continuate così anche per questo giro inserendo 5 rocaille tra ogni archetto e l'altro ecco adesso come abbiamo fatto anche nel giro precedente ci portiamo ad uscire dalla rocaille di punta di questo archetto ecco vedete la terza delle cinque adesso prendiamo una 11 e ci inseriamo nella perlina centrale dell'archetto successivo e tiriamo il filo ma non tirate troppo che poi dobbiamo inserire il nostro rivoli e continuate così fino alla fine del giro eccoci qui adesso dobbiamo mettere il nostro rivoli a testa in giù lo teniamo con le dita e tiriamo bene il filo ecco vedete così è perfettamente incastonato adesso per sicurezza per stringere la lavorazione anche dobbiamo ripassare in quest'ultimo giro in queste ultime perline un paio di volte per stringere ancora la lavorazione e bloccare la nostra incastonatura ok ecco il nostro rivoli perfettamente incastonato adesso ci portiamo ad uscire da questa perlina di incrocio poi prendiamo due rocaille 11 un cipollotto e 2 rocaille 11 e ci inseriamo nella perlina di incrocio successiva tiriamo il filo adesso dobbiamo prendere 3 drop 2 1 2 e 3 ecco e ci inseriamo nella perlina successiva ecco adesso dobbiamo continuare così alternando questi due passaggi per tutto il giro quindi due rocaille cipollotto due rocaille poi 3 drop duo e così via fino alla fine del giro ecco qui arrivati a questo punto qui sarà la nostra asolina quindi ci portiamo ad uscire dal cipollotto e adesso prendiamo due rocaille 11 e ci inseriamo nella prima drop duo ecco e tiriamo bene il filo tra le drop duo dobbiamo inserire una 11 0 ecco ci inseriamo nella drop 2 successiva prendiamo di nuovo una 11 e ci inseriamo nella drop 2 successiva adesso invece dobbiamo prendere 3 rocaille 11 e ci inseriamo nel cipollotto di nuovo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nella prima drop duo qui di nuovo una rocaille e ci inseriamo nella seconda drop duo e ci inseriamo nella terza drop duo qui di nuovo prendiamo 3 rocaille 11 e ci inseriamo nel cipollotto anche qui 3 rocaille 11 e ci inseriamo nella prima drop duo aiuto ecco qui 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 una 11 e ci inseriamo nella drop duo successiva di nuovo una 11 e ci inseriamo nella drop duo subito dopo e adesso dobbiamo prendere 2 rocaille come abbiamo inserito proprio quando abbiamo iniziato e ci inseriamo nel cipollotto ecco qui vedete il nostro modulino sarà così quindi qui dove sono solo 2 rocaille sarà il nostro capieto invece qui ai lati abbiamo inserito 3 rocaille adesso ci portiamo ad uscire dal luto dalla rocaille tra le prime drop duo ecco prendiamo 3 rocaille 11 ecco scusate e ci inseriamo nella rocaille drop duo successiva e nella prima rocaille delle tre ecco e tiriamo bene il filo vedete adesso saltiamo la rocaille di mezzo e ci inseriamo nella prossima nel cipollotto e nella prima rocaille subito dopo il cipollotto e tiriamo bene il filo questo perché ci aiutiamo con l'ago per fare in modo che qui sia un po appuntito vedete ecco quindi saltando questa di mezzo la facciamo risalire anche qui la stessa cosa quindi uscendo dalla prima saltiamo la seconda e ci inseriamo nella terza attraversiamo anche la droga 2 e la rocaille sopra ecco qui di nuovo prendiamo 3 rocaille e ci inseriamo qui nella droga 2 scusate nella rocaille drop 2 e la prima rocaille subito dopo ecco così vedete adesso saltiamo di nuovo la rocaille in mezzo quindi ci inseriamo nel cipollotto nella rocaille subito dopo e ci aiutiamo a farla risalire ecco in questo modo quindi anche qui saltiamo per fare questi angoli se possiamo chiamarli così un po più appuntiti ecco vedete guardate come carino io adoro questo modulino qui di nuovo prendiamo 3 rocaille e ci inseriamo nella rocaille subito dopo e qui ci portiamo ad uscire dalle rocaille prima del cipollotto perché qui dobbiamo fare la nostra asolina ecco sistemiamo le perline e il nostro modulino è più o meno pronto ci manca solo l'asolina quindi uscendo da queste due rocaille prendiamo 6 rocaille 4 5 e 6 e ci inseriamo nelle rocaille subito dopo ecco qua e quindi abbiamo fatto la nostra asolina per la monachela o il perno quello che preferite adesso ripassate in tutte le perline per rinforzare tirando sempre bene il filo e nel capieto poi fate un paio di nodini e tagliate il filo ed eccomi qui io ho già montato anche il perno con l'anelino e guardate come sono carini ecco alla luce naturale sono proprio una meraviglia guardate e questi sono gli orecchini dedicati alla nostra carissima gabriella quindi spero di aver fatto cosa gradita poi vediamo se li piacciono se li piace questa sorpresa e niente spero che sono stata chiara nei passaggi spero che comunque questo modulino vi piace e vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao